Mettere altri soldi sulle pensioni è una scelta che prende a schiaffi i giovani. Beh, è chiaro che Quota 100 aveva una durata triennale, una durata quindi limitata. Lo dico francamente, non ha esperito le aspettative, soprattutto per quanto riguarda l'ingresso nel mondo di lavoro da parte dei giovani. E' anche vero che questo è un periodo storico estremamente particolare. Si poteva pensare che nel 2020 ci fosse un aumento importante delle assunzioni con la crisi economica che c'è stata, con un paese bloccato per un anno e mezzo. Quota 100 ha iniziato prima. In che momento storico siamo. La nostra proposta è nota e molto in linea con quella dei sindacati, che penso che facciano anche bene perché trovarsi da una Quota 100 ha un ritorno completo alla Fornero. Certo con dei correttivi che mi sembrano assolutamente necessari come opzione donna o come l'appe sociale. Ecco, quindi correttivi che vanno sicuramente prorogati e implementati. Però non ragionare almeno su 41 anni di contributi versati, mi sembra perfino illogico. La nostra proposta è una proposta biennale che sarebbe una Quota 103. Penso che su questi i sindacati siano ovviamente a favore. Ora si passerebbe da 38 a 42 a 41 anni, però diciamoci francamente, quando io sento parlare di squilibrio del sistema pensionistico, dobbiamo guardare chi è andato in pensione con le bepi pensioni, chi è andato in pensione con un sistema retributivo pieno. Bisogna anche ragionare su quello che è successo anche nel passato. La colpa non è certamente di Quota 100. No, no, però detto ciò Quota 100 era un'opzione che veniva data a tutti, non solo alle donne o solo a chi aveva lavori gravosi. Anche una persona che avesse un lavoro normale, non so, molti dipendenti pubblici hanno avuto l'opzione. Magari nel senso... È stata pensata nel 2018, ma senza prevedere quello che poi... Nessuno poteva prevedere quello che è successo poi nell'anno, nei primi mesi del 2020. No, quello sì, ma le polemiche su Quota 100 sono precedenti. Questa è la realtà. Il Covid. E comprimere la possibilità di andare in pensione in un momento così delicato per il Paese, io penso che sia un grave errore. Io condivido pienamente le parole del vostro ospite, del sindacato. Ganga. È una riforma che non sta in piedi dal punto di vista finanziario e ha fallito nel suo intento di sostituire i giovani. Sono stati 500 mila posti di lavoro con la Nino l'anno scorso. Questa è la realtà. Per un anno intero non sono stati più rinnovati tutti i contratti a tempo determinato che potevano diventare ovviamente dei contratti a tempo indeterminato. Quindi l'effetto è anche quello. L'anno scorso l'economia è rimasta completamente ferma. Quindi dire che quello che è successo, cioè le scelte fatte nel 2018, poi negli anni successivi non hanno avuto riscontro, soprattutto per quanto riguarda le assunzioni di giovani, io penso che sia sbagliato perché non si tiene conto di quello che è successo nell'ultimo periodo. Sì, ma scusami, Bitonci. Sì, e dico anche a Colanino, la giustizia sociale, bisogna tenere conto anche di tutti quelli che sono andati in pensione anche con meno di 20 anni i contributi. Il fatto che gli investimenti bisogna farli, quelli del PNRR bisogna farli in fresta ed è uno dei grandi temi che sta ponendo il sindacato che ha posto ieri sera. Allora, fatemi cambiare un attimo argomento, ed è comunque un argomento collegato, perché se vogliamo spendere tutti questi soldi probabilmente non li possiamo usare magari per tagliare le tasse. Vado da Bitonci. Esatto. Prego, perché poi il discorso è questo. Potrei farle una lunga domanda, ma ci siamo capiti. No, è un tema che questo è estremamente delicato, perché è stato fatto tutto un lavoro da parte delle commissioni finanze e Camere Senato. ne è uscito un documento che media le posizioni di tutti, ma con dei punti abbastanza concreti e fondamentali sia per i lavoratori dipendenti, ma anche per le imprese, perché ogni tanto anche in questi ragionamenti che noi facciamo, abbiamo fatto in questa mezz'ora, ci dimentichiamo il grande mondo delle partite IVA e per quest'anno, ricordiamoci anche un dato importante, è la prima volta che il numero delle partite IVA è sceso sotto i 5 milioni e questo è un dato che fa anche pensare cosa è successo lo scorso anno, 300 mila chiusure di partite IVA e quindi non nuove attività. Il 50% delle aperture di quest'anno sono state tutte quante in regime forfettario, siamo arrivati quasi a un milione e 900 mila attività che utilizzano questo regime iper semplificato. Allora anche sulla riforma fiscale, io anche da coedatore commercialista, al di là dell'importo perché con 8 miliardi siamo cari, si può fare veramente poco, si può fare poco perché intanto bisogna decidere se il cuneo lo vogliamo fare fiscale, lo vogliamo fare contributivo, c'è una grande confusione sento parlare persone che parlano del cuneo fiscale, ma il cuneo fiscale è l'IRPEF, il cuneo contributivo è un'altra cosa. Vogliamo fare il taglio dell'IRAP? Tutti quanti i parlamentari di centro-destra, centro-sinistra hanno detto che la prima operazione da fare è tagliare la tassa sulle perdite, l'IRAP. Anche qui ci vogliono almeno 3 miliardi per toglierla a tutti almeno le piccole partite IVA e i professionisti. Cioè bisogna fare delle scelte, ma la cosa più importante e che costa praticamente nulla sono le semplificazioni. Quello che chiedono gli imprenditori e le attività sono semplificare il sistema fiscale e contributivo. Ci sono 4-500 adempimenti dall'inizio dell'anno fino al 31-12. È un lavoro che deve essere fatto e che è assolutamente necessario. Sarebbe a costo zero e già darebbe una grande mano. A costo zero. Pensate che la CGA di Mestre ha calcolato lo scorso anno in una cifra esorbitante dai 48 ai 50 miliardi il costo della burocrazia e degli adempimenti fiscali e tributari ogni anno. Quindi vogliamo fare una riforma a costo zero. Tagliamo un po' di adempimenti e siccome le proposte ci sono, sono depositate, non capisco perché il governo l'unica ipotesi è quella di cancellare magari il regime forfettario che è un regime iper semplificato.